ciao ragazze finalmente sono riuscita a fare questo video che mi hanno inchiesto in tante vabbè parecchie dai se siete nuove e vi è piaciuto il video mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale oggi vi spiegherò come cos'è questo piedino e a cosa serve questo il piedino praticamente ha una levetta qui nera questa trattiene il tessuto così lo trattiene e lo prepara per entrare in questi due fili che fanno l'ago praticamente e lavora sopra i fili e viene il punto viene perfetto lo so che ho fatto tanti video sul zig zag e come lavorare senza tagliacuce però veramente questo ne vale la pena provatelo e vedrete che ne vale la pena adesso molto il piedino tutti lo montano come volete come la loro macchina da cucire un video ecco così poi ecco il lavoro come viene questo l'ho già fatto viene praticamente così sembra proprio fatto con la taglia e cuci ecco si comincia così praticamente la stoffa viene fermata da questa livezza viene molto insomma mi è piaciuto tanto veramente faccio il punto quello che vi ho fatto vedere negli altri video è un punto zig zag praticamente è questo numero il 19 questo punto qua praticamente è un zig zag con le cuciture ai lati eccolo il risultato per quelli che non hanno la taglia cucie come me è molto utile questo piedino spero che vi piaccia lasciatemi nei commenti se l'avete provato se vi è piaciuto vi faccio vedere una piccola differenza questa è una tuta che che voglio fare l'ho divisa ho fatto i pantaloni da soli e il sopra da solo per quello che c'è qua il lavoro si vede del insomma della taglia cuci e questo è il mio lavoro c'è proprio quasi quasi è finito uguale uguale quasi dai nei prossimi video vi spiegherò come usare tanti tipi di di pidini che si usano tanto alla prossima ciao 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 ciao